Sono miope e quando porto gli occhiali non riesco a leggere da vicino. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. È uno degli effetti di chi porta gli occhiali, poi vedi bene in un modo ma non nell'altro. Ma basta toglierli che cambia tutto. E questa è proprio una storia di qualcuno che si è tolto gli occhiali. C'è una targhetta sul banco davanti al mio, non riesco a leggerla per bene, mi sembra di trovare un nome ma il cognome è confuso. Perché appunto con gli occhiali non vedo. Faccio un gesto tipico, li sollevo un attimo, giusto il tempo per leggere nome e cognome scritti bene e quando rimetto gli occhiali, pac, miracolo. Riesco a leggere con perfezione il nome che prima era confuso. Ma che cosa è successo? È semplicemente successo che nel momento in cui abbiamo una chiara visione tutto diventa più chiaro. Anche quando tornano le condizioni di prima. Perché aver avuto quella illuminazione o quella lettura precisa ci ha dato un punto di vista diverso. E quindi anche quando rimetti gli occhiali, se vuoi torni nella tua posizione di prima, torni nei tuoi progetti, l'aver avuto comunque un bagno di chiarezza rende tutto più chiaro. Sono io che cerco spiegazioni a tutto oppure c'è un fondo di verità? Che cosa ne dite? Buongiorno, buongiorno e buon caffè.